Se fate un giro sui giornali vedrete come tutti parlano entusiasticamente del fatto che Bergoglio si è pronunciato contro gli abusi nella Chiesa. Ora, parlare contro la pedofilia nella Chiesa è il sistema più facile e immediato per raccogliere consensi a portata di mano, ma le parole devono corrispondere ai fatti, altrimenti è pura demagogia. Allora, Ratzinger è stato sia da cardinale che da papa il vero martello dei preti pedofili, tanto da farne spretare circa 400. Questo è stato riconosciuto mesi fa unanimemente perfino dai suoi nemici dopo l'aggressione mediatico-giudiziaria orchestrata dal clero tedesco. Lo hanno attaccato mentre era 94enne per presunte sviste di 40 anni fa. Non aveva saputo ben vigilare bufale conclamate che tanto dopo la sua morte il procedimento in Germania è stato archiviato. Ovviamente di questa notizia è comparso appena qualche trafiletto sugli stessi giornali che prima avevano dato un enorme risalto alla montatura, anzi, nemmeno su quei giornali. Da quello che ho potuto verificare ho trovato solo un paio di agenzie piccole piccole per rendere giustizia al vero papa a fronte dei fiumi d'inchiostro che parlavano delle accuse. Questo getta un'ombra davvero inquietante sull'informazione nostrana, se si può gettare un'ombra ancora più inquietante rispetto a quelle che già non ci sono. Ma comunque intanto il risultato era stato raggiunto, quello di gettare del fango sulla figura di Papa Ratzinger così come del fango è stato gettato pochi giorni fa su Giovanni Paolo II da recenti dichiarazioni di Pietro Orlandi. Ora, è vero che tali dichiarazioni sono state abilmente manipolate dalla stampa, ma non è quello il punto. Il punto è che queste dichiarazioni manipolate uscite sulla stampa, sul mainstream, sono state smentite da Bergoglio solo il 16 aprile, con un clamoroso ritardo dopo che lo aveva già fatto il cardinale già segretario di Papa Voitivo. Allora, la banalissima, ovvia, evidente strategia di Papa Francesco, ormai scoperto non essere stato canonicamente eletto, come potrete verificare nei due documentari su questo canale YouTube di Sire e Intelligenti Pauca, è quello di convogliare consenso su se stesso e, allo stesso tempo, di far denigrare sottilmente la memoria dei veri pontefici. Ecco cosa ha dichiarato Bergoglio. L'abuso sessuale di minori da parte del clero e la sua cattiva gestione da parte dei leader ecclesiastici sono stati una delle sfide più grandi per la Chiesa del nostro tempo. Leader ecclesiastici? E chi sarebbero questi leader ecclesiastici? Allora, se si parla di leader capi, nella categoria figurano inevitabilmente anche i papi precedenti. Lui non è papa, ma insomma, anche coloro che si sono avvicendati sul trono di Pietro prima di lui. Avete visto com'è sottile? I leader ecclesiastici. Mica ha detto vescovi, cardinali, corrotti. No, i leader ecclesiastici, quindi anche Benedetto e Giovanni Paolo II. Avrebbe dovuto specificare qualcosa sull'opera di Ratzinger, un'opera eccezionale contro la pedofilia che lui stesso, alcuni anni fa, aveva peraltro ammesso pubblicamente. E invece no. Quindi, per la percezione comune, anche Papa Benedetto è stato infilato nel calderone dei leader che hanno gestito malamente la questione. E così vi rimandiamo a un documentario sconvolgente di Martin Boudot intitolato Il Codice del Silenzio. Lo trovate su YouTube. Si chiama il titolo L'insabbiamento bugiardo di Bergoglio, indagine approfondita. Metteremo il link in descrizione. Il canale TV Domina Multilingual ha provveduto a sottotitolarlo in italiano, e quindi lo potrete vedere attivando i sottotitoli. Allora, questo video afferma che Bergoglio, d'arcivescovo di Buenos Aires, non solo ha del tutto ignorato e rifiutato di ricevere sette persone abusate da preti, ma ha anche promosso, tentando di orientare il giudizio della Corte d'Appello argentina, una potente difesa del prete pedofilo Julio Cesar Grassi, condannato a 15 anni di galera per abusi su minori, dai 9 ai 17 anni di età. Questo personaggio è tuttora recluso in Argentina. Ora, fino ad oggi, nonostante il documentario e una petizione, Bergoglio non ha mai risposto ufficialmente. Questo Grassi, personaggio mediatico sempre sotto i riflettori, gestiva un enorme orfanotrofio, finché dei bambini presentarono denuncia contro di lui per abusi sessuali. La conferenza episcopale argentina si mobilitò in difesa dell'abusatore, e come spiega l'avvocato difensore dei bambini, Gallego, nel 2010 questa commissionò al famoso avvocato Sancinelli di Buenos Aires una mega controinchiesta in quattro volumi, alla copertina accattivante per un totale di 2800 pagine, per difendere proattivamente il pedofilo. In questi quattro volumi, che hanno come titolo studio sopra il caso Grassi, i bambini venivano accusati di bugia, inganno, falsificazioni, e quindi il prete doveva essere assolto in appello. Un paragrafo parla chiaro sui quattro volumi. Il lavoro fu commissionato nel 2010 per iniziativa della conferenza episcopale argentina, in particolare del suo allora presidente, e sua eminenza reverendissima il cardinale Corghe Mario Bergoglio, oggi sua santità, Papa Francesco. Quindi il Papa, prosegue il documentario, ha commissionato una controinchiesta per far assolvere un prete che era stato condannato per pedofilia. E Bergoglio, futuro Papa, l'ha inviata con astuto tempismo poco prima delle varie udienze di appello di padre Grassi. Ecco, capite un po' la questione, no? Bergoglio ha negato tutto quando è stato apostrofato direttamente in Piazza San Pietro dai documentaristi e non ha mai smentito l'episodio. Quindi da un lato c'è il vero martello dei pedofili, Papa Ratzinger, che è stato prima infangato, accusato semplicemente di aver avuto una svista, di non aver saputo ben vigilare. È stato calunniato, quando il processo a suo carico è stato archiviato non ne hanno dato praticamente notizia, e invece Bergoglio, che oggi parla contro gli abusi e dice che è tutta colpa dei leader del passato che hanno gestito male la questione, ha commissionato, almeno stando questo documentario, una monumentale controinchiesta in difesa di un prete pedofilo. Capite? Questi sono i fatti. Il documentario è stato, tra l'altro, pluripremiato, ha vinto il miglior programma europeo di attualità 2017 al Prix Europa e grazie a questo documentario Martin Boudot è stato tra i finalisti dell'Harbert Launder Prize, un premio per documentaristi. Traete le vostre conclusioni. Un caro saluto da Andrea Cionci.